I risultati della domenica del campionato di calcio di Serie A regalano soddisfazione all'Inter che si riporta solitaria al secondo posto e alla Roma che aggancia la Lazio e la zona Champions League. Spezia Verona e Sampdoria Salernitana fiscano 0-0, poi Mkhitaryan e Lautaro Martinez firmano il 2-0 di Inter-Lecce e il posticipo serale la Roma con Mancini supera la Juventus 1-0. Stasera in programma gli ultimi posticipi della 25esima giornata, alle ore 18.30 il Sassuolo ospita la Cremonese, alle ore 21 c'è Torino-Bologna.